Ciao Italia, oggi siamo qua al viso per l'ultimo round del D1 dove abbiamo 62 partecipanti che stanno provando una pista nuova per loro e molto tecnica, vediamo che il livello è molto alto e stiamo prendendo sempre più ritmo, io penso che vedremo veramente delle belle avrei anche piacere ovviamente di presentarvi i miei ospiti e anche la mia futura squadra cominciamo dalla Leonessa, Onika Burigo, abbiamo il braccio destro della Van Zee, il Super Diego 40 ha detto anche il gommaro, abbiamo il dottore Franco in compagnia ovviamente, scusate, di Ciccio adesso andremo avanti a farvi compagnia e farvi continuare a vivere questa bellissima esperienza a dopo, ciao!